Allora, perché c'è tanta roba comunque caricata, allora io uso la DB303 perché faccio anche un po' prima a volte che registrarla con quella analogica, è molto semplice da utilizzare, anche ha dei preset molto importanti, solamente che qui non ho fatto il classico giro ESID, ho utilizzato solo un suono allungato praticamente, l'ho lasciato così com'è e l'ho chiuso, l'ho disarmato per poi farlo partire direttamente dalla MIDI del canale. Ovviamente ho tutto lavorato con un compressore eccetera eccetera, ora disarmo tutto così vi faccio sentire come suonava. Sì sì, vai vai, step by step come hai fatto questa parte di sound design, assolutamente. Ok, ovviamente non sono questi. Ok, una pernacchia ovviamente. Però questi sono i suoni che diciamo piace fare a me, quindi sono allungati, mezzi progressive. Che ho fatto? Ho preso l'amp semplice di Ableton e l'ho armato, per dargli un po' più di sostanza, per farlo friggere un po' di più. Quando voglio diciamo distorcere un po' i suoni, utilizzo tanto l'amp senza stare troppo a calibrare troppo la presenza, il dry wet, insomma. Ho lasciato dual per farlo un po' più stereofonico, diciamo, leggermente. Ho armato il group on pressure, giusto per dargli un po' più di bottarella, ma senza esagerare perché amalgama meglio. Un auto pan, ovviamente con la shape e l'amount al cento per cento. Sentite come va. Diventa quasi un effetto. Esatto. Bello. Poi, aspetto un attimo che è andato a finire qualcosa. Ovviamente qui ci sta il side chaining che va per conto suo. E poi la botta finale è semplicemente il valhalla. Praticamente il pre delay lo metto a zero perché non ci serve. Un decay che comunque stia un po' alla metà. Il preset è quello che ho lasciato di default. Non mi sono andato a chiudere con il l'oxover, il multibus, niente di che perché poi va a fine che va a rovinare tutto. Generalmente i preset di default che mettono tutti i plug-in sono già testati per essere sicuri che vanno in una certa direzione. Se devi mischiare qualcosa, passi una nottata e poi dopo torni al punto di partenza. Quindi praticamente questo è il suono lavorato, quindi tutto quello che è stato fatto prima, poi è stato messo ovviamente il compressore con il side chaining perché nella fase di mixaggio mi servirà per farlo sentire meglio. L'equalizzazione che non ho dato troppa curva per chiudere le basse frequenze perché volevo che il 303 uscisse fuori. E poi il valhalla che mi fa tutto il grosso. Questa è prima e questo è dopo. Sì, diventa quasi una chitarra elettrica, tra virgolette, però elettronica. Molto molto carino. Esatto. Tutta questa questa cosa, per la felicità di Steve, mi ha ciucciato tutta la CPU. Difatti poi che cosa consiglio? Che come ho, insomma dai miei maestri e tutto quanto, registrare tutto in audio. Dopo che è stato fatto una cosa così, metti tutto quanto in congelamento e fai audio. Quando hai trovato il suono che sai che non devi più modificare.